A Torre del Greco durante le feste è stato riscontrato un aumento dei casi di contagio. Nei giorni dal 24 al 27 dicembre sono 72 cittadini in risultati positivi al Covid-19, registrate anche 24 guarigioni. Muta dunque il bilancio dei casi di contagio nella città. 42 cittadini ospedalizzati, 263 in isolamento domiciliare, 2.137 guariti e 61 deceduti. Il bilancio dei contagi rassicura i cittadini di San Giorgio a Cremano. Dai dati emersi il 24 dicembre sono solo 52 cittadini attualmente positivi nella città, tutti posti in isolamento domiciliare. Un numero esiguo rispetto ai picchi raggiunti il mese scorso, annuncia il sindaco Giorgio Zinno, che deve tuttavia rappresentare uno slancio alla prudenza e non ancora un traguardo. A Torre annunziate nei giorni 24 e 25 dicembre registrati 29 nuovi casi di positività al Covid-19 e 24 guarigioni. Sono 167 cittadini attualmente positivi, 154 posti in isolamento domiciliare e 13 ricoverati. Sala in 1.356 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 1.161 guarite e 28 decedute.